Rosario è il vigile che ogni mattina dirige il traffico davanti la scuola. A circa 50 anni vive a grotta minarda e basso e magro agli occhi neri e capelli ricci. Rosario indossa una divisa scura. Dal suo aspetto sembra un vigile cattivo, mentre sensibile e attento nel suo lavoro. Una volta davanti la scuola, mentre attraversavo sulle strisce pedonali, un'auto mi stava investendo. Lui si è accorto del pericolo ed ha affischiato, facendomi fermare. I bambini della scuola elementare scelgono Rosario Cogliano, vigile urbano di grotta minarda, nel loro tema perché si sentono protetti e tutelati, ma anche perché simpatici. Emozionato. Sì, abbastanza. Della terza elementare della scuola elementare hanno espresso un compito e hanno descritto la figura del vigile urbano. E tra i compiti risulta il mio nome, il mio lavoro che svolgo ogni mattina, che gli faccio attraversare la strada, si sentono sicuri con la mia presenza, il mio sorriso che gli do ogni mattina per farlo attraversare. E così hanno espresso nel loro componimento la mia figura del vigile urbano. Oggi è la giornata della premiazione in comune, ma è anche la giornata dell'Unicef a grotta minarda con la rappresentanza Unicef che ha evidenziato l'importanza dei diritti per i bambini, ma soprattutto è stato messo a punto un programma in sinergia con l'amministrazione comunale. Una città che voglia essere una grande città, che voglia essere ricordata nella storia, nel futuro, deve essere una città a misura d'uomo e a misura di bambino. Deve essere una comunità educante e anche solidale fra quelli che soffrono, fra quelli che hanno bisogno di voi e che sono qui nel vostro paese. Il vostro sindaco, che ha colto perfettamente lo spirito e i contenuti dell'Unicef agenzia dell'ONU, ha deciso con tutti i comuni della terra dell'Ufita di deliberare la costruzione con l'Unicef della città amica dei bambini e delle bambine. È una giornata particolarmente importante per la direzione didattica Luigi Lazzarolo, questa giornata, perché ha dato modo alle scolaresche in primi, se anche a tutto il personale della scuola, me compresa, di vivere una dimensione straordinaria insieme alle istituzioni e soprattutto alle associazioni importanti, quali l'Unicef, che da sempre lavorano a favore dei bambini. Ma è soprattutto nei riguardi delle istituzioni che voglio sottolineare l'importanza di questo giorno, affinché anche questi piccolissimi, giovanissimi nostri concittadini possano avere delle istituzioni una visione positiva, non come qualcosa di distante, delle entità astratte, spesso magari per forza di cose anche un po' sfavorevoli, ma piuttosto delle istituzioni presenti, vive, create e ambientate nel mondo della scuola. Io credo che l'amministrazione comunale di Grotta Minarda si stia adoperando abbastanza per creare queste condizioni e quindi rendo atto di tutto questo. Questa di oggi è una giornata importante per il comune di Grotta Minarda, ma soprattutto per i bambini della scuola elementare che saranno qui premiati. Perché? Perché si dà voce e ascolto a questi bambini, i quali hanno espresso quindi liberamente, e come sempre accade, insomma, la voce dei bambini è una voce sincera e spontanea, e quindi si dà credito a quello che loro hanno affermato. E quindi è una cosa che dimostra come svolgere il proprio dovere, con senso di, con umanità e con accortezza, crea nelle giovani generazioni fiducia nelle istituzioni. Infatti la figura del vigile urbano è una figura importante per la cittadinanza? Non solo per la cittadinanza, ma in questo caso viene valorizzato anche il ruolo di protezione, quindi di sicurezza, quindi di salvaguardia dell'incolumità dei piccoli con cittadini. E questo loro hanno apprezzato e quindi noi raccogliamo queste loro testimonianze e quindi diamo voce a questi bambini. Anche perché Grotta Minarda, insieme all'Unione dei Comuni, ha deliberato, quindi ha appoggiato un progetto dell'Unicef, dove si dice appunto città amica dei bambini. E quindi è un progetto che mira alla divulgazione e alla conoscenza della Convenzione dei Diritti dell'Infanzia, ed è un progetto che poi seguirà in tutti i comuni, fra cui anche dare la cittadinanza onoraria ai bambini, che sono di origine straniera, che magari risiedono nel proprio paese. Ovviamente è un fatto simbolico, però sta a testimoniare come si spinge verso un'educazione, verso l'integrazione. Oggi grande soddisfazione per il Corpo di Polizia Municipale, viene premiato un vigile urbano e appunto c'è soddisfazione. Sì, certamente c'è soddisfazione perché significa che gli interventi sul territorio e gli interventi di sicurezza davanti alle scuole, da parte del mio personale, è un intervento efficace. E quindi, diciamo, è piacevole sentire dire certe cose quando si dà un risalto alla professionalità dell'agente di Polizia Municipale e quindi un riconoscimento che fa onore al Corpo e a me quale responsabile.